lo zaino stagna, fa più ice si esatto occhio, aspettate ce l'ho piena io eh capito? oh oh c'è gente oh dove dove alla base alla base e cazzo fuori alla porta fuori alla porta ciao ciao sicuro? mi sta parlando si è al lato due sono oh my god oh my god sono loro che sparano oh io io uno l'ho buttato giù e uno sta dietro il container rosso ma non muore minchia ma non muore no non muore dove dove l'ho ferito l'ho ferito raga l'ho ferito dov'è? lo stanno inseguendo gli zombie è ferito ho dato due colpi di pistola occhio dietro davis dietro 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 grazie non posso mirare questo cazzo di cucina non si alza più ora quello madonna mia super action sono io qua ah è qua il player grazie 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 grazie